Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questo caso me l'avete richiesto tramite il Google Docs, ma non solo. E' una storia che mi avete richiesto davvero in tantissimi, anche nella sezione commenti dei miei video. Oggi parliamo del caso di Grace Millane. Anche questo caso prende vita grazie ad internet. Ma questa non è la classica storia in cui due persone si conoscono tramite qualche chat di incontri perché vogliono trovare l'amore. Questa storia è diversa, è decisamente diversa e come al solito andiamo con ordine. Grace Millane nasce il 2 dicembre del 1996. A Wickford, una città del sud della contea dell'Essex, in Inghilterra da David e Gillian. Ha due fratelli maggiori di nome Declan e Michael. Frequenta la St. Thomas More High School a Southend-on-Sea dove si diploma nel 2015. Grace, come tutte le ragazze di 21 anni, ama divertirsi. Ama andare alle feste con le amiche, ama la musica. Inoltre è una giocatrice di hockey, di talento. Non solo, Grace ama molto anche disegnare e viaggiare. Su internet infatti ho trovato tante sue opere e credo siano davvero bellissime. Grace è descritta come una ragazza simpatica, socievole, divertente e sempre di buon umore. Inoltre è anche una ragazza molto creativa. Ama fare nuove esperienze, incontrare e conoscere nuove persone. Insomma, Grace è affamata di vita. Siamo nel 2018 e dopo essersi laureata in pubblicità e marketing all'Università di Lincoln, Grace decide di prendersi un anno sabbatico per viaggiare completamente da sola. La ragazza non vuole fare la classica vacanza in cui si ferma in un posto per un tot di tempo per poi tornare a casa. Grace viaggia leggera, ha solo uno zaino con sé. E vuole soggiornare in vari ostelli per poter visitare quanti più posti possibili. La ragazza quindi parte ufficialmente nel novembre del 2018 per andare in Peru, dove resta per circa due settimane. Poi con l'avvicinarsi del Natale, più precisamente con l'avvicinarsi di Dicembre, decide di spostarsi in Nuova Zelanda. La ragazza per incontrare persone del posto usa un'applicazione di nome Tinder. È un'app che facilita la comunicazione tra utenti interessati a chiacchierare tra di loro. Viene usata principalmente come app di incontri, ma molti la utilizzano come Grace per conoscere nuove persone mentre sono in viaggio, o semplicemente per conoscere nuovi amici. Appena atterra in Nuova Zelanda, Grace cerca immediatamente di incontrare e conoscere persone del posto, anche perché il suo ventiduesimo compleanno è alle porte e vorrebbe festeggiarlo in compagnia di persone che, per l'appunto, conosce durante il suo viaggio. Così la ragazza contatta e inizia a parlare con un ragazzo di nome Jesse Kempson, di 28 anni. Ma chi è Jesse? Da dove viene? Jesse nasce l'8 dicembre del 1991, a Loha Hutt, in Nuova Zelanda. Ma cresce a Wellington, la capitale della Nuova Zelanda, che sorge all'estremità meridionale dell'isola del nord, sullo stretto di Cook. Quando è piccolo i suoi genitori si separano, quindi viene principalmente cresciuto dai nonni. Frequenta l'iceo della capitale e gioca softball. Jesse è un ragazzo come un altro, ama molto uscire, divertirsi. Inoltre è un utente molto attivo di Tinder. Il primo dicembre del 2018, quindi il giorno prima del compleanno di Grace, i due decidono di darsi appuntamento a Auckland. Grace è atterrata da appena due giorni. I due quindi si incontrano e, incredibilmente, tutto il loro appuntamento viene ripreso da diverse videocamere di sorveglianza della città e dei vari locali. Si sa dunque con precisione tutto quello che i due giovani hanno fatto quella sera. Prima dell'incontro si vede Jesse consumare quattro birre in un locale, dove tornerà anche con Grace, il Bluestone Room. Il secondo filmato mostra Grace vicino a degli alberi di Natale, nei pressi della Sky Tower. Ci sono anche altre persone attorno a lei e si vede chiaramente che usa il telefono. Manda un messaggio alla sua famiglia con le foto degli alberi di Natale. Poco dopo si vede un ragazzo con la giacca blu che si avvicina a Grace. Quest'ultima, appena l'ho nota, gli va incontro. I due si abbracciano. Sono alle 17.54. Successivamente, verso le 18 circa, usano le scale mobili per salire al primo piano e recarsi al bar-ristorante Andy's Burger. È possibile vedere al bancone i due ragazzi che consultano i menù per decidere cosa bere e cosa mangiare. Poi si siedono ad un tavolo, mangiano e consumano diversi drink. Nove in tutto. Alle 19.12 i due lasciano il Burger Bar, attraversano la strada e si spostano al Mexican Café, dove continuano a bere diversi cocktail, come margarita e sangria. Alle 20.27 i due lasciano anche il Mexican Café, escono dal bar e le telecamere al circuito chiuso li riprendono, mentre passeggiano nel centro città. Attraversano Albert Street per poi entrare in un altro locale chiamato Bluestone Room. Si siedono ad un tavolino e ordinano altrettanti drink, come del sidro, della birra e degli shot di tequila. Sono le 20.50, i due ragazzi sono ancora seduti al tavolo, al Bluestone Room, quando si vede chiaramente che si baciano. Questo avviene circa tre ore dopo essersi incontrati per la prima volta. Ad un certo punto, sempre grazie alle telecamere di sorveglianza, possiamo vedere Jesse, che si alza dal tavolo per andare in bagno, lasciando da sola per poco tempo Grace, che ne approfitta per scrivere dei messaggi entusiasti ad una sua amica. Jesse è un ragazzo davvero molto carino e gentile, sta passando una gran bella serata con lui. I due si tengono per mano, Jesse si comporta bene con Grace. Le offre la cena e il drink nei vari bar. Insomma, Grace è incantata da Jesse, è un bel ragazzo ed è anche molto gentile e galante. Attorno alle 21.41 Grace viene vista per l'ultima volta entrare al City Life Hotel in Queen Street. È ancora con Jesse e stanno camminando abbracciati. Arriva il 2 dicembre del 2018, ossia il giorno del 22esimo compleanno di Grace. I suoi genitori e le sue amiche le mandano gli auguri di compleanno, cercano di chiamarla più volte, senza ricevere risposta. David e Gillian, i suoi genitori, sono davvero molto preoccupati. Grace è in viaggio, in un luogo che non conosce e per di più è sola. E ahimè, ormai non riescono a rintracciarla da circa 24 ore. Grace è sicuramente una ragazza che non disdegna le avventure, anzi, tutt'altro. Ama molto fare nuove esperienze e questo viaggio per lei è un'avventura. Però prima di partire, Grace ha promesso ai suoi genitori che si sarebbe fatta sentire ogni giorno. E Grace, per quanto sia uno spirito libero, è una ragazza responsabile, quindi non si scorderebbe mai di rispondere ai suoi genitori per di più il giorno del suo compleanno. Qui c'è davvero qualcosa che non va. La ragazza sul telefono in tutto riceve un centinaio di messaggi, che rimangono senza risposta. Il padre, David, a questo punto preoccupato per Grace, decide di chiamare le autorità neozelandesi. per denunciare la scomparsa della ragazza. Le ricerche partono immediatamente e la polizia non può far altro che pensare che questa sia una scomparsa davvero strana. Grace è una ragazza straniera, è sola, non conosce nessuno, quindi è poco probabile che sia scappata. Poi, scappata dove? Insomma, questa è una scomparsa inquietante, oltre che strana. Appena è possibile, David, il padre di Grace, sale su un aereo diretto a Oakland e appena a terra lancia un appello per chiedere aiuto, descrivendo la figlia scomparsa come una figlia adorabile, estroversa, amante del divertimento e supportata dalla sua famiglia. La madre di Grace, Gillian, è davvero devastata dal dolore. In questo momento si sta riprendendo da un intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre per il cancro ed è obbligata a rimanere nel Regno Unito. L'ispettore Scott Bird, che dirige le indagini sulla scomparsa di Grace, dice Ogni giorno David Millane, il padre di Grace, veniva in ufficio, nel mio ufficio. Ogni giorno chiacchieravamo, a volte andavo io a trovarlo in hotel. A questo punto la polizia riesce a recuperare un altro video di sorveglianza dove si vede Jesse che esce dal suo hotel per entrare in un negozio dall'altra parte della strada al fine di comprare dei prodotti per la polizia. Successivamente rientra in hotel e qualche ora dopo ne esce trasportando una valigia. Ferma un taxi e sale sul sedile posteriore. Sembra visibilmente sconvolto. Arriviamo al 9 dicembre del 2018, sono le 16 del pomeriggio quando il corpo di una ragazza in posizione fetale viene trovato all'interno di una valigia in una fossa poco profonda nei Whittaker Rangers, a circa 19 chilometri a ovest dal centro di Oakland. Inizialmente la vittima non viene identificata. L'ufficiale Sin infatti trova la valigia, chiama il patologo che ne esamina il contenuto e conferma che sono presenti dei resti umani. A questo punto sigillano la valigia e chiamano il coroner per trasportare la salma all'obitorio. Il corpo viene portato all'obitorio dell'Auckland City Hospital. Verso le 19.20, il giorno seguente, è prevista l'autopsia. L'ufficiale Sin torna all'obitorio la mattina seguente verso le 8. L'autopsia ha inizio all'incirca un'ora dopo, alle 9 del mattino. Il dottor Simon Stables appena apre la valigia, si trova davanti una donna in posizione fetale con la testa rivolta verso il punto in cui si trovano le ruote della valigia. Ha i capelli sciolti e lunghi, gli occhi sono chiusi e infine ha lo smalto nero sulle unghie dei piedi. Il corpo a questo punto viene spostato sul lettino del patologo e solo a questo punto vengono ritrovati vari oggetti probabilmente appartenenti alla vittima, compresi un paio di orecchini a cerchio, però in quella valigia non è presente il suo cellulare. Dall'autopsia emerge che la vittima è proprio Grace Millane. Il patologo conclude che è stata strangolata. Inoltre ha diversi lividi sulle braccia e sul petto, quindi probabilmente è stata immobilizzata dal suo aggressore. Il patologo dirà durante il processo che è stata necessaria una forza considerevole e la pressione sul collo di Grace deve essere durata dai 4 ai 5 minuti. La polizia non ha il telefono di Grace, ma possono accedere al suo account Facebook col fine di cercare degli indizi e in effetti il suo profilo di indizi ne rivela parecchi. All'interno del profilo vengono trovati numerosi messaggi che Grace si era scambiata con Jesse prima di incontrarlo. La polizia quindi si reca al City Life Hotel dove Jesse soggiorna col fine di fargli delle domande sull'omicidio di Grace. Le autorità non trovano Jesse in camera e un'ennesima videocamera di sorveglianza lo riprende mentre sta per entrare nell'hotel per poi fare marcia indietro vedendo che è presente la polizia all'interno dell'edificio. La polizia però lo nota e quindi lo insegue. Lo ferma mentre sta camminando velocemente per strada e lo scorta immediatamente al distretto di polizia. Jesse nega di avere a che fare con la morte di Grace Millane. In realtà sì è vero si sono incontrati ma si sono salutati per le 22 quella sera. Quindi Jesse dice di non aver la minima idea di dove possa essere andata dopo quell'ora. A dirla tutta avevano anche programmato di rivedersi il giorno successivo ma Grace non aveva più risposto alle sue chiamate e ai suoi messaggi. Il punto è che le telecamere di sorveglianza dell'albergo non hanno ripreso Grace dopo il suo arrivo in camera da letto di Jesse. Questo vuol dire che quella ragazza da quella camera non è mai uscita almeno non in vita. Jesse tra l'altro è all'oscuro del fatto che tutta la serata passata con Grace quindi tutti i loro spostamenti sono stati filmati da più videocamere di sorveglianza. Tra l'altro nei due giorni successivi alla scomparsa di Grace Jesse di certo non si comporta in modo normale. Grace scompare il primo di dicembre. Il 2 dicembre Jesse si reca in un negozio per comprare un set di valigie dei prodotti per fare delle pulizie e infine affitta una macchina. Poi chatta con un'altra ragazza conosciuta su Tinder. I due si danno appuntamento per incontrarsi la stessa sera. Vanno quindi in un bar e parlano per diverse ore. Ovviamente quella ragazza sarà interrogata dalla polizia e dirà che Jesse quel giorno tutto sommato era molto tranquillo. Però c'era qualcosa che non andava, insomma le parlava di cose strane, inquietanti. Ad esempio Jesse aveva chiesto a questa ragazza se aveva mai sentito la storia di un uomo che dopo aver avuto dei rapporti intimi estremi con una donna l'aveva uccisa accidentalmente. Fortunatamente per quella ragazza l'appuntamento si era concluso per le 19.45. Passa qualche minuto, poi Jesse chiama una società che si occupa della pulizia di moquette e tappeti e chiede di poter affittare un lava moquette per la sera col fine di pulire delle macchie di vino rosso su uno dei suoi tappeti. Dopo aver recuperato la lava moquette, Jesse sale in camera e inizia a pulire. Viene filmato nuovamente anche il giorno successivo, il 3 dicembre. Mentre è intento a trasportare delle valigie. Sembrano davvero pesanti. Tanto che deve utilizzare un carrello portabagagli di proprietà dell'hotel per trasportarle. Jesse quindi carica le valigie nella macchina affittata il giorno precedente e guida per qualche chilometro. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono quando torna in albergo, questa volta senza valigie. Jesse a questo punto rientra in camera e ne esce solamente il giorno successivo, alle 6 del mattino. Viene filmato poco tempo dopo in una specie di ferramenta dove compra una pala rossa. Quella stessa mattina inoltre viene ripreso mentre porta l'auto che ha affittato presso un autolavaggio. La lava con cura per poi restituirla. Infine lascia una busta piena di abiti sporchi in lavanderia. La cosa strana è che quegli abiti li recupera il giorno stesso per poi buttarli in un cestino della spazzatura in un parco lì vicino. I detective mettono gli occhi su Jesse anche perché quando lui e Grace erano insieme al Bluestone Room ed era andato in bagno ne aveva approfittato per commentare una sua foto su Facebook dicendole che era molto bella. Ovviamente con tutte queste prove Jesse può inventarsi quello che vuole. I filmati dimostrano che non ha salutato Grace per le 22 di sabato. Quindi Jesse durante il secondo interrogatorio non può far altro che confessare. Jesse a questo punto dà un'altra versione della storia affermando che Grace gli aveva confidato di aver imparato ad apprezzare i giochi spinti con un suo ex fidanzato. E gli aveva chiesto di metterle le mani al collo e di soffocarla durante un rapporto. Jesse dunque sostiene che Grace sia morta per un incidente. Durante il processo emerge che Jesse ha iniziato ad essere letteralmente ossessionato dagli appuntamenti su Tinder intorno ai suoi 20 anni. Raccontava spesso bugie sulla sua vita per attirare delle donne. Infatti affermava di essere una spia della CIA, oppure un malato di cancro, oppure il cugino di una famosa star del rugby. A quanto pare Jesse si sarebbe anche vantato di essere molto ricco, sostenendo che presto avrebbe comprato un ristorante. La verità però qui è un'altra. Jesse non riesce a tenersi neanche un lavoro. Principalmente ha lavorato come barista e come assistente alle vendite. Quando faceva il barista era stato beccato a rubare dei soldi dalla cassa. Mentre quando ha lavorato come assistente alle vendite è arrivato a compilare delle fatture false. Coloro che lo conoscono, intendo coloro che lo conoscono bene, lo descrivono come un individuo strano. Un patetico bugiardo patologico che vive di fantasie. Un'ex coinquilina di Jesse si fa avanti e dice che in effetti quel ragazzo era davvero un bugiardo patologico. In quanto ne inventava una più del diavolo per non pagare l'affitto. L'ultima volta che l'aveva visto se ne era andato di casa dicendole che avrebbe acquistato un bar. In realtà la sua ex coinquilina Millie Mason dice chiaramente che Jesse non riusciva neanche a pagare l'affitto. E praticamente era arrivato a chiedere in prestito dei soldi a tutti i coinquilini. Inoltre Millie racconta una cosa a mio avviso inquietantissima. Spiega che una sua coinquilina e cara amica dormiva con il coltello sotto il cuscino perché aveva paura di Jesse. Infatti il ragazzo più di una volta era tornato a casa ubriaco fradicio e aveva iniziato a prendere a calci tutti i mobili della casa. E ovviamente lei si era spaventata parecchio. Alla fine Millie dice che tutti, nessuno escluso, hanno iniziato ad avere una brutta sensazione e non hanno più voluto stare a casa da soli, solo con Jesse. Millie conclude dicendo Ovviamente Grace quando ha accettato di uscire con Jesse non aveva idea che appena otto mesi prima il ragazzo avesse fatto violenza su un'altra turista britannica di 21 anni. La ragazza si era rifiutata di avere un rapporto con lui ma Jesse aveva comunque continuato a fare i suoi comodi, mentre quella povera ragazza era davvero congelata dalla paura. Oltre ad avere paura quella ragazza si era incolpata per gli otto mesi seguenti, pensando che era stata lei a fargli pensare male accettando di salire in camera sua. Lui però non l'aveva assolutamente invitata per fare cose a letto, bensì per fare quattro chiacchiere perché si sentiva solo. Quella ragazza non aveva raccontato nulla a nessuno, fino a quando la notizia della morte di Grace Millen, per mano di Jesse Kempson, aveva iniziato a circolare tramite i media. In seguito dice in tribunale che dopo quell'aggressione si svegliava tutte le notti piangendo e urlando, aveva continuamente incubi, era convinta che Jesse l'avrebbe rintracciata in qualche modo. In tribunale questa ragazza dice queste esatte parole Ogni volta che andavo a dormire, lo giuro, vedevo i suoi occhi uscire dalle orbite che mi fissavano con rabbia. Sono entrata in paranoia, continuavo a controllare se la porta d'ingresso fosse chiusa, lo facevo anche tre volte a notte, tutte le notti. Fortunatamente col sopporto del mio partner e di alcuni terapeuti mi sono ripresa. A questo punto la donna si gira verso Jesse e gli dice Non ho paura di te, sono forte, non sono sola e sono amata. Ho altro a cui pensare ed è giunto il momento di andare avanti con la mia vita, senza guardarmi indietro. Non hai più alcun potere su di me, lo sai vero? Un'altra delle donne con cui aveva parlato tramite Tinder racconta che era diffidente nell'incontrarlo e aveva una buona ragione ad essere diffidente alla luce dei fatti accaduti. Ha però messo a disposizione una serie di messaggi che si erano scambiati in cui lui le aveva scritto in modo dettagliato cosa gli piaceva fare a letto. Ossia prendere le ragazze per il collo, perché lo faceva sentire superiore, sentiva di avere il controllo. E quindi è stato questo desiderio di dominio, afferma l'accusa, a causare la morte di Grace. Jesse in un altro processo viene condannato per aver terrorizzato la sua compagna con cui conviveva da nove mesi. L'aveva sottoposta a diverse aggressioni, l'aveva minacciata con un coltello da macellaio e l'aveva costretta a fare cose intime e umilianti. Alla fine, dopo nove mesi, era riuscito a dirle che l'aveva mandato la CIA per ucciderla. Jesse, durante il processo a suo carico per la morte di Grace, testimonia che dopo quella notte passata con la ragazza, si è fatto una doccia e poi si è addormentato. Quando si è svegliato la mattina dopo, afferma di aver trovato Grace morta, in camera. Il pubblico ministero però non crede assolutamente a questa versione dei fatti. L'avvocato dell'imputato Ian Brookie dice alla corte che la morte di Grace è stata solo un incidente. Secondo l'imputato, Grace gli aveva chiesto di metterle le mani intorno al collo ed esercitare pressione durante un rapporto intimo. L'avvocato aggiunge che il suo cliente, la mattina dopo, è andato nel panico più totale e questo spiega i suoi tentativi di occultamento. Il giudice Simon Moore, durante la sentenza, dice a Jesse che le sue azioni equivalgono ad una condotta che sottolinea una totale mancanza di empatia. Venerdì 18 dicembre i giudici dicono Grace Millane era particolarmente vulnerabile, era ubriaca e quindi Jesse aveva approfittato della sua condizione. Dopo 5 ore di deliberazione, Jesse viene condannato all'ergastolo con la possibilità di chiedere la condizionale dopo aver scontato 17 anni. Questi 17 anni sono da scontare in concomitanza con altre 2 condanne a 11 anni. L'omicidio di Grace Millane ha sconvolto la Nuova Zelanda e ha spinto il primo ministro a scusarsi in lacrime con la famiglia di Grace. Al termine del processo, le forze di polizia neozelandesi rilasciano una dichiarazione della famiglia Millane che si dice soddisfatta del risultato raggiunto. La famiglia di Grace ringrazia la polizia, i giudici, i pubblici ministeri e la popolazione della Nuova Zelanda concludendo con la frase «Grace sei e sarai sempre il nostro raggio di sole». Jesse Kempson era un aggressore seriale che usava app di incontri per cercare nuove vittime fingendo di essere un ricco uomo d'affare e di successo quando in realtà era un ragazzo solo e problematico. Molto problematico! Con poche risorse e per di più era stato licenziato più volte. Non riusciva proprio a tenersi un lavoro e non perché non fosse un bravo lavoratore. Attenzione, la storia qua è diversa. Jesse non riusciva a tenersi un lavoro perché arrivava sempre a rubare soldi. Sempre. Il padre di Grace Millane nel novembre del 2020 muore dopo una breve battaglia contro il cancro. All'uomo di 61 anni è stato diagnosticato un cancro in seguito al processo contro l'assassino di sua figlia. Sua moglie Gillian, così come i suoi figli Michael e Declan, hanno pianto la loro perdita solo dopo due anni dalla morte di Grace. Questa perdita peraltro arriva dopo che l'intera famiglia ha supportato Gillian nella sua stessa battaglia contro il cancro. Arriviamo al 6 agosto del 2020, quando l'assassino di Grace, Jesse, presenta ricorso contro la sua condanna all'ergastolo. Il suo nuovo avvocato, Rachel Reed, afferma che Jesse non ha avuto un processo equo, ma soprattutto la sua condanna è troppo dura. Rachel Reed inoltre mette in dubbio le prove degli esperti, ossia quelle dei patologi forensi. Più precisamente quelle del dottor Simon Stable e del dottor Fintan Grevan, sullo strangolamento e quindi sulla causa della morte. Rachel Reed inoltre afferma che i lividi presenti sul corpo di Grace non siano significativi. Continua dicendo che le azioni del suo cliente dopo la morte di Grace non significavano che fosse insensibile al momento della sua morte, bensì che fosse in preda al panico. Aggiunge inoltre queste esatte parole. Quali prove concrete ci sono per sostenere che si tratta di una morte accidentale in un incontro consensuale? Nessuna. Quali prove concrete ci sono per sostenere che si tratta di un omicidio? Nessuna. Durante questo processo di appello la madre di Grace, Gillian, si rivolge a Jesse dicendogli esattamente queste parole. Sono tormentata per il terrore e il dolore che deve aver provato la mia bambina per mano tua. Mia figlia è morta terrorizzata in una stanza d'hotel in un posto sconosciuto e dirà da sola con te Jesse. Jesse sei tu che l'hai infelata in quella valigia e sei tu che l'hai portata in quel posto. Sei tu che l'hai sepolta. Gillian inoltre aggiunge come madre avrei fatto di tutto per prendere il suo posto, per morire al posto suo. Sai Jesse, mi siedo e sono piena di sensi di colpa. So che non potevo aiutarla, ma so anche che avrei dovuto essere lì. Sappi che le tue azioni barbare nei confronti di mia figlia sono al di là di ogni comprensione. Arriviamo al 18 dicembre 2020, quando i giudici Stephen Koss, Patricia Kearney e Mark Cooper rispingono l'appello di Jesse contro la sua condanna e la sua sentenza. Ragazzi, ho finito di parlare in questo video. La cosa che mi ha colpito molto di questo caso è il fatto che l'intero appuntamento di Grace e di Jesse sia stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza. È assurdo, perché vedendo ogni singolo filmato è possibile davvero ricostruire tutta la loro serata, da quando si sono incontrati a quando poi sono andati in hotel. Io credo che senza quelle telecamere di sorveglianza non sarebbe stato possibile risalire a tutti questi spostamenti così dettagliati. Ma voi cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Qual è l'aspetto che vi ha stupito di più? Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.